Le immagini sono inequivocabili, questi pannelli rappresentano figure legate al mondo della subacquea. L'UISP è proprio Unione Italiana Sport per tutti anche in questo, grande attenzione per la subacquea, è il piacere di avere qui con me oggi Enrico Maestrelli che è il presidente della Lega legata a livello nazionale proprio all'attività subacquea. Siamo qui al Galata Museo del Mare perché l'UISP ha organizzato questa mostra, una mostra non soltanto di immagini ma poi vedremo nella seconda parte anche un certo senso di storie e attrezzature della subacquea nell'ambito del premio Duilio Marcante. Sì, con questa iniziativa vogliamo innanzitutto ricordare la figura di Duilio Marcante, diciamo così come pioniere della subacquea moderna, una subacquea moderna attraverso Duilio legata soprattutto alla pratica in sicurezza di questa attività. L'UISP si pone all'interno di questo mondo con le attività subacquee in maniera di sviluppare un percorso didattico, formativo per insegnare prima di tutto la pratica delle immersioni in assoluta sicurezza e poter così sviluppare la propria passione all'interno di un'attività fantastica. Allora, cominciamo un po' a scoprire le immagini e anche gli spazi qui al Galata Museo del Mare di questa mostra. Abbiamo detto ci sono attrezzature e anche storia. Qui ad esempio vediamo le tecniche iperbariche, la camera iperbarica. Tra l'altro proprio a Genova c'è stato, avete fatto recentemente, un convegno proprio per parlare di quella, parliamo di sicurezza, di quella che è la sicurezza per chi si immerge. Sì, sabato scorso si è svolto proprio qui al Muma, al Museo del Mare di Genova, un convegno sulle tematiche legate, diciamo così, alla pratica proprio in sicurezza. Quindi relatori che hanno relazionato nell'ambito dell'aggiornamento delle tabelle di decompressione e hanno spiegato, diciamo così, in questo sistema di formazione continua che noi come Lega Nazionale portiamo avanti ormai da sempre sostanzialmente questo percorso per fare sì che anche i nostri insegnanti e istruttori possano essere aggiornati e trasmettere, diciamo, le tematiche il più modernamente possibile. Diamo dei numeri anche magari a spanne, ma a livello nazionale la Lega legata all'attività subacquea dell'UISP, e quante persone raccoglie tra chi poi la pratica, gli istruttori e quant'altro. In ambito nazionale aderiscono alla Lega per le attività subacquea circa 5.000 praticanti, che sono praticanti effettivi, una minima parte che si dedica ancora alla pesca subacquea, un'attività che sta scomparendo con l'avanzare delle tematiche ambientali ed ecologistiche, ma noi come Lega non demonizziamo questa pratica, nel senso non è sicuramente il pescatore subacqueo che se fa questa attività in maniera consapevole non deteriora assolutamente i fondali marini. La pratica maggiore è dedicata all'immersione con gli autorespiratori ad aria, che sono quelli che permettono di visionare il mondo subacqueo. Abbiamo in Italia circa 200 scuole riconosciute, che divulgano i temi legati alla formazione, e attualmente, diciamo, mediamente abbiamo un nucleo insegnanti-istruttori. Dico insegnanti-istruttori perché se la maggior parte delle didattiche che si occupano di subacquea parlano di istruttori, noi parliamo di insegnanti nel senso che bisogna proprio insegnare questa pratica qui e non istruire. Quindi una grossa diversità anche con le terminologie, soprattutto nei percorsi dedicati ai bambini, che non vogliamo far diventare dei sommozzatori, ma vogliamo far provare loro quelle che sono le esperienze in basso fondale, e quando parlo di basso fondale parlo di meno due metri, in modo che questa sensazione di poter respirare sott'acqua e magari farci anche delle piccole attività come giocare, disegnare, ci mette in grado, diciamo così, i nostri insegnanti di essere anche, alla fine, dei buoni educatori. Per chiudere questa prima parte del nostro viaggio in questa mostra al Galata Museo del Mare, ancora immagini, proprio sono le attività dei vostri circoli o comunque delle vostre sezioni dedicate all'attività subacquea, e poi lì ci sono delle immagini straordinarie, se le possiamo anche riprendere, rappresentano quello che è il fulcro della vostra attività anche, cioè proprio il mare, quello che si vede sotto. Sì, abbiamo voluto rappresentare qui, diciamo, le peculiarità che poi vivono attraverso i nostri circoli sparsi per tutta l'Italia e quindi andiamo da circoli, qui c'è un po' quello che facciamo, quindi si va dalla pratica dell'archeologia subacquea alle scuole di mare relative proprio allo stare insieme, a fare aggregazione, a alcuni gruppi che si sviluppano, diciamo così, la loro professionalità acquisita attraverso il mondo dello sport per adoperarsi nella protezione civile. Infatti, come giustamente tu hai detto, poi vedremo nella seconda parte quello che sono i sommozzatori delle istituzioni, quello che, diciamo così, fanno per dovere prima quello che noi facciamo prima per passione. Però alla fine queste passioni si uniscono insieme e le immagini che si possono vedere qui sono quello che, insomma, si riesce a portare a casa e a tenere, vabbè, ormai nei nostri computer e non più nelle foto, le stupende immagini che si possono realizzare con gli scatti subacquei. E a proposito dei computer, prima di spostarci nell'altra sala, c'è proprio anche l'indirizzo www.wisp.it slash sub per avere tutte le informazioni relative all'attività subacquea dell'UISP. Allora andiamo nella seconda parte di questo viaggio affascinante nei mondi dei fondali di come fare subacquea in totale sicurezza. Stiamo vedendo proprio le immagini, abbiamo le immagini con i manichini che raffigurano. Poi quella che è l'attrezzatura che viene utilizzata, avete voluto anche la collaborazione di chi sott'acqua ci va anche per lavoro, per tutelare la sicurezza di tutti e quant'altro. Sì, diciamo che le attività di immersione legate allo sport, alla ricreazione, all'aggregazione hanno come padri la subacquea del lavoro, la subacquea delle istituzioni. Sott'acqua si è iniziato ad andarci innanzitutto per lavoro, poi durante il periodo bellico anche per motivi bellici. Oggi per fortuna si va sott'acqua per lavorare molto meglio e soprattutto per riemergere dopo le immersioni, perché se una volta la mortalità per chi faceva questa tipologia di lavoro era altissima, oggi è praticamente nulla da questo punto di vista. L'immersione sportiva, come già dicevamo nella prima parte, ha avuto in Duiglio Marcante il padre dello sviluppo dell'immersione a portata di tutti, l'ausilio delle attrezzature nel tempo si è modernizzato e oggi voglio dire qualsiasi persona può immergersi tranquillamente nell'assoluta sicurezza lasciando solo come pratica vera e propria di questa passione e attività. Tra l'altro, alle mie spalle, c'è un cartello che parlava di Duiglio Marcante dell'università, ricercatori scientifici, mi ha colpito che ci fosse, siamo nel bienio 62-64, Elena Pastorino, unica donna del corso, quindi anche le donne poi col tempo si sono avvicinate a quella che è la pratica della sua acqua e credo che anche voi come WISP abbiate un consistente numero in questo senso di donne che si avvicinano a questa pratica sportiva, ma non soltanto. Beh, sta nel nostro nome, WISP, sport per tutti, è un'attività alla quale tutti devono essere messi in condizioni di poter praticare. Le donne oggi si sono evolute moltissimo dal punto di vista sociale e quindi di conseguenza avvicinandosi anche allo sport in maniera sempre maggiore e anche nelle attività subacquee ora sono una consistente percentuale di praticanti. Mentre continuiamo a vedere le immagini, ci spostiamo qui lungo questo tratto di mostra ancora un riferimento legato, abbiamo parlato prima dei più piccoli, come avvicinate alle pratiche subacquee ai più piccoli? Bene, attraverso un percorso formativo ed equativo che comincia dalle scuole elementari con il rispetto dell'ambiente sottomarino, quindi trasmettendo loro tutte quelle nozioni per la salvaguardia, diciamo così, dell'ambiente. Dopodiché li portiamo a toccare l'ambiente con mano, come dicevo prima, in basso fondale, quindi non oltre i due metri, due metri e mezzo, dove però insomma la vita del mare è già abbastanza florida da questo punto di vista qui. Quindi insegnando loro le tecniche come se fossero adulti, diciamo così, senza però tralasciare il loro essere bambini. Noi stiamo sviluppando a livello nazionale un progetto che si chiama Disegnare Sott'acqua e quindi li mettiamo in condizione, diciamo così, di sviluppare da una parte il loro senso di bambini, quindi di gioco, di disegno, di attività ludiche e dall'altra parte già a prendere contatto con quelle che sono le attrezzature che poi crescendo, se continuerà la loro passione verso queste attività, potranno praticare con, diciamo, una formazione mirata, specifica per queste attività. Prima di salutarci, banale, un riferimento, siamo al Galata Museo del Mare, siamo a Genova, la Liguria, la Liguria recita un ruolo fondamentale in quello che è il mondo delle attività subacquee anche per voi. Sì, la Liguria, diciamo così, ha dei fondali spettacolari da questo punto di vista qui. Oggi anche il mondo della subacquea e i praticanti frequentano queste zone in maniera molto numerosa, con il rispetto dell'ambiente che si diceva prima, la pratica in sicurezza, quindi, voglio dire, il modo e le modalità per stare insieme diventano sempre più moltecipli, quindi si inizia con un'immersione, si finisce attorno a un bel piatto di spaghetti e poi, insomma, possibilmente con i crostacci ai sopra, perché, insomma, non siamo, come dicevo prima, certamente noi che depauperiamo le risorse faunistiche dei fondali e quindi, insomma, questo modo di stare insieme ci permette da una parte di frequentare i fondali marini, dall'altra parte di stare insieme in maniera socializzante e aggregativa. Allora, abbiamo scoperto oggi anche quella che è l'attività legata al settore subacqueo del WISP e io ringrazio il Presidente della Lega a livello nazionale Maestrelli e poi avremo altri spazi per raccontarvi le attività del WISP e anche quelle subacqueo.